Il presepe di Gesù è una stalla e in una stalla ci sono gli animali e in una stalla proprio perché ci sono gli animali c'è un clima maleodorante e comunque una stalla non è tra le nostre case, è assolutamente fuori dalla città questa immaginazione che noi troviamo nel Vangelo non la dobbiamo edulcorare non la dobbiamo eccessivamente abbellire, decorare perché diversamente non ci trasmette in tutta crudezza la verità di ciò che Dio nascendo a Betlemme ci viene a comunicare la verità è questa, chi va al presepe in questo Natale accolga questa verità in questo messaggio, io sono Dio e sono nato in queste condizioni bruttissime al gelo e al freddo, col bue e l'asinello, con un pagliericcio forse sporco con la mia mamma che tra l'altro noi sappiamo essere immacolata una immacolata concezione che ha dovuto come dire sporcarsi le mani condizioni tristissime, brutte, nello scarto, nella discriminazione per loro non c'era posto in albergo, non perché non ci fosse tanto spazio ma perché papà Giuseppe e mamma Maria non avevano i soldi per poter pagare ebbene io che sono Dio e sono nato in queste condizioni bruttissime solo io essendo Dio posso nascere qui tutti gli altri esseri umani non devono nascere come sono nato io ecco la bellezza di un presepe il Natale è il ricordo del modo con cui il Signore si è reso presente il Natale è dunque il ricordo del Signore che è diventato uomo un bambino come ognuno di noi è stato ed è nulla è così commovente come il fatto che Dio si è fatto uomo per accompagnare con discrezione con tenerezza e potenza il cammino faticoso di ognuno alla ricerca del proprio volto umano accogliete cari amici queste mie parole come semplici riflessioni che vorrebbero aiutare a far rivivere con spirito nuovo il mistero del Natale con la presenza con la speranza nel cuore che sia per noi e per il mondo intero un Natale di serenità e di pace auguro a tutti e a ciascuno un buon Natale un felice anno nuovo e una vita improntata alla generosità e all'amore verso gli altri buon Natale a tutti voi grazie